Miei fratelli e sorelle, Allah ci ha donato una potente supplica creata tempo fa per il profeta Muhammad e i suoi compagni. Fu un periodo difficile per loro. Gli fu detto che il nemico e il suo esercito erano pronti ad attaccare i musulmani. Con tale preoccupazione in mente, crearono una supplica per porre fine ad ogni loro paura. Allah venne loro in aiuto ed essi sconfissero il nemico. È una supplica simile a quella del profeta Ibrahim, la pace sia con lui, che fu arso vivo da suo padre e dalla sua famiglia solo perché richiamava le persone ad Allah. Così egli pronunciò quelle parole e Allah fece un miracolo. Il fuoco non bruciava più, divenne freddo. Ciò è detto nel Corano. Nessurah al-Imran, verso numero 170, Allah parla di queste parole potenti che hanno trasformato una situazione difficile in agio e consolazione. Queste sono le parole dette da Allah nel Corano, Asbun Allahu, Vanimal Vakel. Allah ci basta ed è la migliore soluzione dei nostri problemi. Affidarsi ad Allah pronunciando queste parole, Asbun Allahu, Vanimal Vakel, Allah ci basta, noi non controlliamo nulla, egli ha il controllo di tutto. Allah fa riferimento a ciò nel verso 173 della Surah al-Imran. Ho voluto parlare di questa supplica perché in ogni situazione Allah ci basta ed è la migliore soluzione ad ogni nostro problema. Egli sa cosa è meglio per noi e come farci stare tranquilli in tempi di crisi.